Ciao a tutti ragazzi e sono sempre benvenuti su un nuovo video Redstone Challenge con Bisunto Ma salve Sa tanto che non faccio un video Redstone Challenge ed eccoci qua di nuovo Oggi come vedete alle nostre spalle andremo a fare la slot machine Me l'ha commentata Matt e Phil hanno scritto nell'ultimo episodio Redstone Challenge faresti una slot machine e poi il premio viene droppato da un gittatore Non abbiamo fatto la cosa del premio ma potete farla benissimo E potete fare addirittura un premio diverso a seconda di quale dei tre colori in questo caso Dei tre blocchi corrispondenti escono di fila Ah premio ho fatto Va bene ok Non sarà un tutorial blocco per blocco questo qua vi lascerò sia il download del mondo con queste due cose qua Sia la schematica giù in descrizione così potete Eventualmente molti mi richiedono anche la schematica ultimamente la lightmatica L'abbiamo già fatta per entrambi i casi questo è il circuito che ho fatto io Questo è il circuito più compatto che ho fatto Bisunto Solo che questo qua a lungo andare ogni tanto c'è dei problemi Non si sa il motivo tipo abbiamo fatto lunghi test e dopo ogni tanto sbaglia Non si sa il motivo veramente Esatto Non lo riesco a capire Nuova sfida per voi Riuscite a trovare l'errore? Esatto Sbaggate con questa cosa qua Comunque vi spiego come funziona Ogni volta che noi premiamo il tasto il circuito parte La slot machine parte per un numero casuale di volte E viene fatta ruotare diciamo ogni cosa E suona la musichetta Non suono più niente Cosa è successo? Ah gli ha messi il contrario Ah gli ha messi te il contrario Tutto ok ragazzi non è successo niente Chuck 2 Tutto a posto ragazzi Tutto funziona alla perfezione Premendo il tasto parte la slot Che dispensa un bisunto a caso E vengono ruotati a caso E questa lampada qua non si accende finché i colori sono tutti uguali Oh abbiamo vinto Ok Ma c'era una possibilità infima di vincere Ma abbiamo vinto Quindi si accende la lampada Tutti i colori uguali si è fermata la slot machine E abbiamo vinto Vi facciamo vedere che adesso facciamo andare con la leva Anche oppure con il tasto E ancora una volta Il sistema cosa fa? Quando il tasto è premuto Questa lampada quindi è accesa Il sistema sta andando Mentre sta andando c'è un ritegno Tramite questa cosa qua Un impulse extender Fatto con i comparatori Che manda un sistema di dropper Vengono droppati degli item Come facciamo a fare la casualità in questo caso Sono tre tipi di item Che vengono droppati casualmente in questo corso d'acqua E ci sono tre filtri Quindi il filtro per la concrete gialla La concrete verde Lime E la concrete rossa A seconda di quale item viene mandato Viene fermato in uno di questi filtri Tutti quanti naturalmente poi vengono riportati da questa parte Perché non è uno smistamento Ma è semplicemente per avere un output casuale Da un input unico Quindi ogni tot viene lanciato l'item Questo item finisce in uno di questi filtri qua Finendo in questi filtri Updata tramite quasi connectivity Il blocco sta attivando tramite quasi connectivity Il blocco qua sotto Esatto Perché il pistone è un bad E questa redstone dust Si updata Updata il pistone Vai Bis Fai vedere Quindi in poche parole Senza avere lo slime Possiamo vedere che questo qua È un pistone che non è in uno stato valido Appena ci piazza un blocco vicino Si updata E non si updata più Perché continua ad essere nello stato invalido Ovvero con un blocco di redstone O in diagonale oppure sopra Quindi come facciamo per risolvere ciò Beh Muoviamo il redstone block in contemporanea In questo modo Ogni volta che riceve un update Va su E dopo ritorna giù Però poi appena riceverà un altro aggiornamento Ehi Aspetta Sono a posizione sbagliata Perfetto Questo è il funzionamento Quindi non è collegato fisicamente Ma si updata per quasi connectivity E il pistone Questo è un bad Che vede questo aggiornamento E questo qua cosa va a fare Va ad aggiornare Il sistema Che fa ruotare i colori Che è questo qua Ve lo faccio vedere magari così Con un fermo immagine oppure scaricate il mondo Che trovate in descrizione E questi colori girano Adesso Ecco L'ha fatto manualmente Bis Vai ancora Vedete Girano i colori randomicamente Cioè randomicamente Ah In sequenza Successivamente Cosa aggiorna Questo nodulo qua Oltre a far andare questo sistema Fa andare anche questo sistema qua Che ci serve per la vincita Cioè Un sistema uguale a quello Ma fatto in orizzontale Con I blocchi Solidi Cioè Dato che ci sono 5 combinazioni Ci sono 5 blocchi sotto In striscia Vai andare Ogni volta che Quello lì gira Anche questo gira Quindi ogni sequenza Di colore Questo blocco si sposta O in questa posizione qua O torna all'inizio Perché sono 10 linee Ok basta Va bene È già abbastanza E quindi Cosa possiamo capire Da questo sistema qua Quando i blocchi Sono allineati Dove ci sono i repeater Vuol dire che Tutti i blocchi Sono allineati Sia qua Che qua Quindi Ok Lo stavo rimettendo Nella corno Di lavaggio No vabbè Ok Volevo far vedere Che adesso Premendo questo tasto Facciamo andare Questi due Orientati correttamente Manca l'ultimo Deve essere allineato Quindi vai Anche con l'ultimo Questo qua Ok Ancora una volta E ancora una E sono tutti allineati E il segnale passa Arriva questa striscia di red Si accende la lampada Infatti tutti i colori Sono uguali Questo perché Perché appunto 5 sono i blocchi qua E 5 sono le rotazioni Di colori che avvengono Quindi non saranno mai Scoordinati Ogni volta che questo blocco Si sposta Si sposta anche quello E che si trovi qua 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 O qua Ogni volta sarà il colore diverso Ad esempio questo Questa striscia qua L'ultima accesa Corrisponde al colore giallo Quindi se vogliamo fare Un premio diverso Per il colore giallo Basta che prendiamo Questo segnale di redstone Lo portiamo Per un lingotto d'oro Boh Non lo so E magari il colore verde Che è il successivo È questo qua Ok Adesso abbiamo il colore verde Per tutta la striscia A parte l'ultimo Che Bisa ha fatto danni Bisa Ma cosa Non è vero Si hai fatto danni Ho semplicemente girato L'observer Esatto Aspetta che sistemiamo Ma stavo intonando La mia nuova chitarra Perfetto Ok Adesso con la colorazione verde I blocchi che si sono allineati Sono i primi Quindi questo è il colore verde Allineato E infatti qua abbiamo la striscia Accesa grazie al primo repeater Questo blocco non ci deve essere Ok perfetto Adesso vi facciamo vedere Che Lo farò andare molto velocemente O comunque con la leva Sempre attiva Per vedere che Il circuito continua a cambiare Autonomamente La lampada si spegne Se non sono coincidenti Adesso mettiamo il random tick speed Molto veloce Così il tempo È molto più veloce È velocizzato Non è il random tick speed T-crate Sì il t-crate Ok Proprio Abbiamo aumentato I tick di minecraft Non il random tick speed Perché il random tick speed Non influisce Non influenza la red Sono altre cose Ma aumentando Tutto il gioco di minecraft Grazie alla carpet mod Facciamo andare tutto il sistema Molto più velocemente Quindi guardate Quanto vengono Velocemente lanciati gli item Ok Questo è effettivamente Minecraft che va veloce Ma non si bugga niente Ma è solo per farvi vedere Che tutto funziona alla perfezione Non si bugga Anche a lungo andare Tutto funziona correttamente Adesso avete visto che per un istante Si aggira la lampada Perché erano tutte gialli Ecco ancora Quindi il sistema funziona Alla perfezione Spegniamo il tutto Fai tornare il tickerito normale Perfetto Questi sono i vari circuiti Che ci sono qua dietro Quindi un randomizer Un sistema di memorie Per vedere qual è la vittoria E qua i sistemi Che fanno girare i colori Stessa cosa da questa parte Ma ve la spiegherà Il buon bisunto Quindi vai Allora Semplicemente ho preso Esattamente il suo circuito E l'ho messo qua davanti Quello per girare i colori Quindi dovrebbe essere Praticamente identico Se magari avere qualche wiring Con gli observer Per renderlo praticamente Attaccabile Infatti tutti quanti i colori Sono uno di fianco all'altro Questa cellula di memoria È esattamente la stessa Infatti come vedete Hai 5 blocchi qua E 5 altri blocchi qua Ma al posto di avere blocco solido All'observer Che crea un clock Con gli adiacenti Attivare e disattivare Dei blocchi specifici Infatti qua ci sono 5 blocchi chiave 1, 2, 3, 4, 5 Che attivano tutti quanti Questa redstone dust Come vedete È la stessa identica Redstone dust Che c'è qua Che va direttamente Nella torcia Ovviamente Siccome qua sta lampeggiando Con un trucco Ovvero mettendo Il repeater a 3 E poi il repeater a 4 Riesco a farla tenere Sempre accesa L'attivazione È praticamente molto simile A quella di Suri L'unica differenza È che non è Con gli item In modo randomico Ma semplicemente Come nelle vere slot machine È dispensato un oggetto Ok non è che nelle vere slot machine Viene dispensato un oggetto Però abbiamo capito il concetto Viene dispensato un oggetto Se è non staccabile Arriva fino all'attivazione Di questa striscia Ovviamente Quando premo il bottone Tutte le 3 le strisce Vengono attivate E poi si continua Fino a quando Non esce fuori Un oggetto staccabile Quindi in questo primo nastro Continuerà a girare Fino a quando Non uscirà Un item non staccabile Il fatto è che Vengono attivate due volte Quindi per capirci Si bloccherà solo quando Verranno dispensati I due oggetti Staccabili Uno dietro l'altro Così per diminuire Un po' la probabilità E fare qualcosa Di più complicato Così sono felice Ok vuoi attivarla? Ok certamente Però siccome è Molto 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 lenta Come vedete È più lenta Di quella di Suri Io penso Decisamente Sì Ok all'inizio Vengono attivati tutti e tre Insieme Poi randomicamente Parte la prima striscia Perché come vi dicevo Non è che si ferma In un momento specifico Si ferma Quando vuole Perché magari C'è un disco Che continua ad andare Fino a quando Ti dice Ehi stai per vincere E dopo in realtà Non hai vinto Vediamo se ci capita il caso No non ci sta capitando Casio di vincita È abbastanza raro Ecco come avete visto Questo ultimo nastro Continua ad andare Facendoci finta Di arrivare al momento giusto In realtà Non è arrivato Vabbè Questo qua è il circuito Se volete debaggarlo Perché ogni tanto Qualche problema Buon divertimento Oh non riesco a vincere Non vale Naturalmente è molto più compatto Perché è tutto Concentrato Queste sono tutte Sezioni a parte Per farvi comprendere meglio Però Sono due sistemi Che potete fare Per avere una slot machine Quindi Direi anche che La Redstone Challenge Fatta da Matt e Phil È completata Abbiamo fatto sia la versione semplice Sia la versione di Bisunto E quindi Cosa vuoi dire Che non è difficile Che è difficile È esatto È la versione Survive e versione Viso Ormai tutto è in doppia versione Perfetto Quindi commentate di nuovo Anche voi con l'hashtag Redstone Challenge Per la prossima sfida da proporsi E vedremo di accontentarvi Se la sfida ci interessa Ovviamente sfidiamo anche voi Per farlo più compatto di così Infatti Disco è più facile Compattarlo ancora di più E Create le vostre slot machine Magari anche in giro Per i vari server E dopo invitateci Così facciamo una reaction Cioè invitatemi Perché Suri non so Non parlo a nome suo Per vedere Se riusciamo a vincere Qualcosa Molto interessante Ok Commentate E ci vediamo In un prossimo video Io come sempre sono Suri Lasciate un bel mi piace Se hai piaciuto Con Bisunto Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti